Sei sul divano? Stai lì con la camomilla, berla tranquillo con la brioche in mano? Svegliati! Da poco è iniziato Scalo 76 Talent, il programma per i talenti, dove tu, protagonista, potrai votare il talento dei concorrenti. Vieni tra noi, ti siedi tra il pubblico e ti daranno un meraviglioso telecomandino con il quale tu voterai il talento di tutti i concorrenti partecipanti. Vieni a trovarci perché troverai tanto, tanto divertimento e soprattutto sarai tu il protagonista. Grazie per la visione! Grazie per la visione!